Larissa Bay oggi deve essere al lavoro nel reparto pediatrico dell'ospedale. Kenzie, Dix, andate in pediatria. B.C. Eric. Sembra che l'obiettivo sia diretto verso l'ala nord. Non so a quale piano, sembrerebbe il terzo. No, no, il quarto. Il segnale è disturbato. Dix, Larissa è stata registrata nella sua postazione in pediatria. Identità e impronte digitali corrispondono. Pronta? Larissa, metti le mani ben in vista. Cosa? Ragazzi, è nostra. L'obiettivo è ancora nell'ala nord, a due ali di distanza. Kenzie, Dix, l'obiettivo non è Larissa. Che succede? Che significa? È uno sbaglio, non sei tu quella che cerchiamo. È uno scherzo. Mi dispiace. Dacci la posizione dell'obiettivo, dov'è? Si trova nell'ala nord. Eccolo, lo vedo. Calle, Sam, quasi ci siete. Sembra che adesso stia rallentando. Stanza 420, stanza 420. Ecco, si è fermato. In fondo al corridoio, girate a destra. È il reparto di radiologia. Youssef ci ha passato due settimane a riparare il software. E adesso, Eric? Andate avanti nel corridoio, girate a destra. L'obiettivo si è fermato, dovreste esserci. L'interfiera etna in oncologia. L'interfiera etna in oncologia. Qui niente, è il piano sbagliato. No, è fermo, è a sei metri da voi. Ma no, qui non c'è. Ma dov'è Eric? Siete a tre metri da lui. Ora a un metro e mezzo, ragazzi, siete su di lui. Nel condotto. Ho una brutta sensazione. Che c'è lì? Almeno abbiamo trovato Youssef. Eric, stanza 423. Dobbiamo aprire la porta. Vediamo. L'hanno rubato per scannerizzare l'iride. Volevano aprire questa porta. Eric! È una porta di sicurezza che si apre con la scansione dell'iride. Non è facile. Non starai pensando... Sappiamo come entrare. Ah, certamente. Se vuoi, fallo pure. Io non ti giudico. Non è proprio il modo che preferisco. Non vorrai che lo faccia io. Non ho detto questo. Oh, cavolo. Grazie, Eric. Andiamo. Eric, c'è uno scaffale vuoto. C'è il fluoro di ossido di glucosio, il tossitumumab e farmaci per la brachiterapia. Che cosa sono? Sono dei radiofarmaci. Ragazzi, è medicina nucleare. Se erano qui, sono spariti. Roba che occorre a un terrorista per fare una bomba.